Ti voglio ringraziare per questo guido a pranzo meraviglioso, complimenti signora Grazie. Grazie. Tu sei proprio levato le pieghe oggi, eh? Mamma, ma così è meglio farlo in un vestito. L'espressione levarsi le pieghe si riferisce alle persone che battivano la fame nei periodi bellici o post bellici e quindi si formavano le pieghe nello stomaco. Certamente dopo un lauto pranzo queste pieghe spariscono miracolosamente. È meglio fargli un vestito. Significa, come accadeva nel passato, quando gli arbitri erano tutti sartoriali e costavano un occhio della testa, è meglio fargli un vestito anziché invitarlo a pranzo. Arrivederci al prossimo incontro. Ciao! Grazie. 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 Grazie.